Sette vittorie in sette partite, un campionato perfetto, sin qui è unica squadra siciliana ancora a punteggio pieno, membro di un club esclusivo che al momento conta appena dieci squadre in tutta Italia. La storia del glorioso Partini Caudace pretendeva quest'anno la costruzione di una formazione che lottasse per il passaggio dal campionato di promozione a quello di eccellenza, ma un inizio così forse non se lo aspettava neanche la nuova dirigenza targata a Radicelli. Merito assoluto al lavoro in estate del neo DS Domenico Simonetti portando in dote l'esperienza virtuosa alla nuova Sancis e senza dubbio del tecnico palermitano Cristian Perricone specializzato in piccoli miracoli sportivi. Sicuramente abbiamo fatto una squadra importante, non ci siamo mai nascosti al primo giorno, il nostro obiettivo è sicuramente quello di fare un campionato di vertice, fino adesso ci siamo riusciti. Merito anche dell'intesa che si è venuta a creare, hanno iniziato a prendere fiducia, a fidarsi, a lavorare nel miglior modo possibile. La forza è la nostra unione, noi ci capiamo a volo, lo staff stiamo lavorando in sintonia. Un risultato ancora più sorprendente se si considera il complicato aspetto logistico. I neroverdi si allenano nello stadio di casa, il comunale La Franca di Partinico, ma si sono visti costretti a giocare le prime sei partite di campionato a Palermo e solo l'ultima a Montelepre. Noi abbiamo fatto dei lavori affinché si potesse quantomeno calpestare il terreno di gioco. Debbo ringraziare chi si è impegnato fino a ieri a far arrivare un finanziamento di quasi un milione di euro. Molto impegno gli uffici non ci hanno messo per far entrare questo finanziamento a bilancio e oggi noi parleremmo di lavori già iniziati al comune di Partinico. I partinicesi ci seguono e hanno capito il perché noi giochiamo a Montelepre. Essendo una squadra tecnica abbiamo bisogno di un campo veloce e Partinico oggi non ce lo consente.